Signor Lupo, quanti giorni è che dorme per strada? Che cosa le è successo? Io avevo che dormo su strada a bellezza di qualche due anni. Ma come mai? Che cosa è successo? Ma non è successo nulla, perché io mi volo, mi giro e dico ma come mai io con due case che ho, io devo dormire fuori? Una sera io ero a casa qua in Pia Merecamare allora dovevo aspettare a loro che rientravano che se 9 e mezzo, le 10, l'11, via via, a mio figlio e a mia nora. Allora dice, benvenuto mi sento rire, ma tu devi aspettare a noi? No, in caratteremo la chiave che io ho apposta a aspettare a bolla poi io piglio e mi è trasto, no? Picchiamo il rufritto sempre e meno che ho via un contonato mi è so forti, non l'appartenente, è forti, abballava il rufritto. Qualcuno quando mi trascia io pigliava, mi è nacchionava, mi è nacchionava la scala, mi mettevano a scacchere la scala e mi venivano a trovare i miei soldi a scala. Una sera, una sera, mi è nacchionata in erbe che avevano abbragnato la porta a scassare tutta cosa. E ora ci faccio vedere, quando ho vinto una porta a scassare tutta cosa, ho tarapito questa porta, c'è personalmente un padrone, che sono mio. Io sono il padrone di questa casa, io sono stato 12 anni sempre a dire correndo per questa casa, che lavoravo nell'impresa Maniglia, faceva il camionista. Io arrivavo fino alle 1, alle 2 notte dalla porta per venire a casa. Però, a stima scazzona, io trovavo che dormivano. Nessia, 4 di mattina e dormivano. I miei dormivano sempre. Dopo la morte di sua moglie, i suoi figli hanno cominciato a reclamare i suoi beni. Sì, e poi non c'è bene. Ma io non è che sono morto, allora vi ricordo un'altra cosa. Siete qua tutti e quattro, ci siete, vi mettete d'accordo. Però il suo pepino è stato portato al cemeterio. Io sempre scherzandoci. C'è il cemeterio. Perché non avevamo sorde. Ah, non avevamo sorde. E allora il cemeterio cominciava a portarlo. Facciamo noi qua. Ah, a luna facciamo una cosa. Facciamo una colletta. E il suo pepino è portato al cemeterio. E si diceva qua. A quel punto non è arrivato io. Però, mi dispiace, avevo tutti e due maschi. Mi sembrava che avevo un po' di sentimento. Ma invece si è tenuto l'effetto delle persone. Io ho trovato di più a gente, amici qua, e non a loro. Prima è stato buttato fuori di casa qui a Borgetto e poi giù in via Archimede, lei è un altro appartamento. Anche lì ha trovato tutto sbarrato. L'ho trovato, l'ho fatto arrivare a scassare questa porta. E mi colcai, non è che io... Quindi lei ha rotto la serratura ed è entrato in casa sua perché quella è casa sua. Arrivo, alle 12 e mezzo mi sento stare... La porta è in terra. In questo momento è in terra, qui è qua. E qui è stato in dall'aria. Appena appena io stavo dormendo. Salto un tavaro, ma subito mi riprendevo. Cosa c'era? Avevo un pezzo di ferro in mano. E se vuole... Comincio, c'è, c'è, c'è. Tramante mi viva. A volte che mi stavano fuori, erano qualche 13 persone. C'erano anche sei figli insieme a queste persone? E erano io tutti insieme. Tutti che mi avevano a gettare fuori. Mi avevano a dare bastonate. Ci sono state ferme. E io non mi tocco. Facetemi sto favore, non mi voglio toccare. Perché se mi muovo io, ci finisce male. Peccato che non ho la pistola. Perché se avevano la pistola, io la montavo a tutti quanti erano. Amici, amici che cosa? Tu vieni a fare bucceria. Amici, queste sono cose familiari. Non sono cose di burattini. Mi votavo con i miei figli, con i miei figli. E mi ne pote vice, siete i burattini. Siete gente in utile. E fango. Siete fango di persone. Dopo questo episodio, lei ha provato ad andare anche alla casa di Via Archimede? Sì, là, in Via Archimede è successo tutto questo. Lo sento, i carabinieri mi hanno detto di uscire fuori. Ma la casa era sua, lei lo ha detto ai carabinieri? Sì, la casa è mia. e non la do a nessuno e io ne esco le carine lei può fare tutto quello che vuole e che cosa hanno fatto i carabinieri? ho dovuto uscire e dopo dove è andato? io sono venuto in piazza mi ho messo qua in banchina a dormire e chi è venuto? qualcuno della cittadinanza è venuto ad aiutarla? no e lei ha chiesto aiuto anche al sindaco di Borgetto? al sindaco di Borgetto ho cercato di aiutarmi per il momento dice non ti posso aiutare e dice curcate il gioco e basta quindi lei è andata a dormire lo spieghiamo ai nostri telespettatori lei è andata a dormire presso un circolo dove si gioca a carte e le hanno detto che temporaneamente poteva appoggiarsi lì ma poi che cosa è successo? dopo ha successo dice come dice qua se gioca alle carte e tu dice carinta non puoi stare che tu dormi qui dentro perciò dice a nascere fuori e questo gliel'ha detto un funzionario del comune o gliel'ha detto dell'agente normale? l'agente normale mi hanno detto l'agente del comune no e lei da allora non ha più parlato con nessuno del comune? con nessuno nemmeno con l'assistenza sociale ed è tornato qui dove siamo adesso? era qui poi il signor Modica mi è venuto qui a curcato dice che ho curcato dentro questa macchina quando mi ha tirato il fritto con qualche corpo di acqua con qualche cosa e così l'ho fatto veramente me l'ho trovato sempre signor Nicola Modica lei ha aiutato il singior Angelo che ha visto qui di fronte per parecchio tempo un gesto d'umanità normale che forse anche altre persone avrebbero dovuto avere in questa situazione io brevemente ti racconto un po' l'altra notte ci trovavamo qui abbiamo visto sulla panchina sdraiato noi chiamiamo Barboni purtroppo c'è chi lo fa per scelta abbiamo visto che era sdraiato e stava cominciando a venire giù un po' dell'acqua di conseguenza abbiamo una macchina parcheggiata lì gliel'ho aperta gliel'ho messa a disposizione come un gesto umanitario perché lo identifichiamo in paese come un padre una persona anziana comunque ha bisogno di un tetto indipendentemente da quello che è successo da quello che si vocifera io non entro in merito però comunque una persona anziana abbiamo visto che era al freddo imbottito a più non posso coperte addosso abbiamo ritenuto opportuno con dei ragazzi qua che umanamente si sono dimostrati molto più grandi dell'età che hanno ragazzi di 20-25 anni che d'accordo con me ipotizzavano che fosse giusto avere un tetto un tetto noi avevamo disponibile come locale la macchina abbiamo fermato le consegne di lavoro per dare un tetto anche se in metallo un tetto ad angelo in maniera che qualche freddo acqua qualche animale qualche cane non si può mai sapere un gesto apertamento umanitario perché voi e non le autorità bisognerebbe farla a loro questa domanda io non so il perché noi ci siamo sentiti di fare il suo gesto l'abbiamo fatto non ci abbiamo pensato minimamente l'abbiamo fatto indipendentemente da quello che può accadere o no io ci sentiamo tutti io con questi ragazzi mio genere miei figli tutti sentiamo la coscienza un po' a posto dando un tetto quello che non riesco a capire come persone del luogo come angelo che da sempre è vissuto qua io l'ho conosciuto da piccolo l'ho sempre conosciuto persone che vengono da da tutte le parti del mondo sono hanno un tetto questo signore non ce l'ha non riesco a capire il perché le autorità se non si sono interessate il perché se si sono interessate non lo so però so ho visto che lui dorme in una panchina non mi è sembrato non ci è sembrato giusto farlo cioè continuare a dormire in una panchina al freddo a rischio di tante cose